Siamo con Rocco Rasio della Juventina Siderno, Rocco come è iniziato questo torneo? Innanzitutto sono molto soddisfatto e molto contento dell'organizzazione e dell'ospitalità che la città di Cinque Fondi ha dimostrato in tutte le squadre che si sono presentate. Noi siamo orgogliosi di essere qua e di soprattutto valorizzare e divertire i nostri bambini che soprattutto ci si stanno divertendo già alla prima partita. La prima partita l'abbiamo pareggiata 1-1. Ricordiamo che la tua squadra è la Juventina Siderno Blu 2008. Perché rappresentiamo anche con il 2009 che sono quelli rossi. Ok, complimenti allora al risultato finale 1-1 mi pare. Sei contento di questo risultato? I ragazzi si sono divertiti. Quest'altro è un quarto risultato. Perché quello che mi piace soprattutto a me, valo con gli ideali di quelli che mi hanno anche insegnato in faccia a me, di valorizzare soprattutto i bambini, di farli divertire e di piacere in un mondo sano che quello del calcio offre e soprattutto dimostra tante volte di essere superiore a tantissime cose.